A nome del Governo esprimo parere favorevole sulla risoluzione di maggioranza. Assicuro che ogni singolo punto sollevato nelle altre risoluzioni e in discussione sarà oggetto di considerazione a livello dei Ministri competenti. Ringrazio per l'attenzione e a nome del Governo mi riservo di informare il Parlamento dei progressi che faremo. Grazie. Chiedo scusa Ministro, ha dato il parere esclusivamente sulla risoluzione della maggioranza. E no, devo dare il parere. Il parere dovrebbe dare prima delle dichiarazioni di voto affinché i colleghi possano regolarsi. Certo, dovevo concludere l'affermazione dell'esame dei punti dicendo che le altre risoluzioni non hanno il parere favorevole del Governo. Grazie. Quindi il parere è contrario. Giusto? Vi ringrazio.